GTA 6 sarà un punto di svolta per tanti motivi e creerà tanti problemi a tutta l'industria videoludica per la sua importanza, per la sua qualità e per come verrà trattato La saga di GTA ha sempre creato degli standard, abbiamo visto GTA 5 che ha creato standard riguardo qualsiasi cosa la guida, i personaggi, le voci, la qualità della caratterizzazione dei personaggi, le cutscene il modo in cui l'ambiente si muove, il modo in cui si può interagire con l'ambiente Red Redemption è stato un passo successivo al riguardo e qualsiasi altro videogioco, se vuole competere con GTA 5, anche per quanto riguarda uno solo di questi aspetti deve farlo al meglio possibile e comunque non riuscirà ad ottenere gli stessi risultati ne parlavo con un mio amico riguardo Hogwarts Legacy, è un gioco che è completamente differente ma seguite il mio ragionamento, all'interno di quel gioco ci sono cutscene cutscene, che fanno parte di un mondo che forse poteva funzionare dieci anni fa con GTA 4 sono allo stesso livello letteralmente di GTA 4, ossia ci sono i personaggi fermi che parlano ciao come va? bene, grazie, sì ti volevo chiedere puoi fare questo? siamo a quel livello, invece su GTA 5 abbiamo delle cutscene molto più caratterizzate, molto più dinamiche e molto più coinvolgenti e ne parlavamo proprio mettendola a paragone con GTA 5 questo fa capire quanto GTA 5 si è entrato in maniera dirompente nella cultura videoludica anche di chi in realtà non lo gioca per la guida vale lo stesso discorso, quanti videogiochi di guida ci sono in cui appunto il sistema di guida è molto più realistico ma che non hanno lo stesso feeling e che non creano lo stesso gradimento da parte del giocatore appunto nel guidare possiamo prendere Gran Turismo, Forza Horizon 5 sono i primi esempi che mi sono venuti la guida è nettamente superiore a livello di realismo a quella di GTA 5 ma è davvero più bella da vedere? se ti servono soldi su GTA comunque link in descrizione GTA 5 è riuscito a creare tutta una serie di circostanze e tutta una serie di effetti all'interno della mente del giocatore a effetti indiretti e che non riusciamo neanche a capire concretamente che nessun altro videogioco nell'insieme o anche solo in un piccolo dettaglio in un piccolo settore minore è riuscito a creare nominatemi un gioco in cui la guida è più piacevole da vedere rispetto a quella di GTA 5 non parlo del realismo, ci sono stati un sacco di dibattiti riguardo il fatto che la guida fosse migliore su GTA 4 ok, ma per quello che devi fare su GTA 5 quindi muoverti, uscire con l'arma, sparare, avere a che fare con altri personaggi avere a che fare con missioni la guida di GTA 5 è perfetta per quello che deve fare è pratica, funzionale, molto più funzionale di quella di GTA 4 e il punto fondamentale della questione è che è ciò che accadrà esattamente con GTA 6 creerà degli standard nel mondo videoludico che nessuno riuscirà non solo a superare ma anche a raggiungere e questo riguarderà la dinamicità del mondo probabilmente si tratterà di un mondo in continua evoluzione in cui sarà possibile distruggere cose e ritrovarle poi ricostruite dopo un po' di tempo questo accade già su Red Redemption 2 e sicuramente su GTA 6 ci sarà un'ulteriore evoluzione di ciò che è iniziato all'interno di quel videogioco potremmo trovare probabilmente un ambiente anche a livello meteorologico che varierà molto spesso si tratta di quello alla fine di creare un ambiente che possa in qualche modo non solo arrivare a quanto accade nel mondo reale ma essere molto più sistematico e molto più cinematografico certo ci sono anche tante cose su cui la saga di GTA ha peccato prima fra tutte l'impossibilità di trovare marchi reali è una cosa importante per molti molti si soffermano su questo tanto più secondo me rispetto a quanto fanno riguardo altre cose che tra l'altro richiederebbero molta più attenzione ma non solo pecca anche riguardo le armi non è quello il punto il punto è che se un videogioco come GTA che ha tutto e in questo caso un videogioco come GTA 6 che avrà tutto riesce a fare bene tutto non dico in maniera perfetta ma bene un videogioco che fa una sola cosa quindi fare solo cutscene come nel caso del videogioco di cui abbiamo parlato prima non può farla peggio di GTA 5 di GTA 6 di un qualsiasi capitolo della saga di Grand Theft Auto che riesce a fare quello e altre mille cose non solo anche meglio lo stesso farà anche per GTA 6 online non sto dicendo che sia un videogioco che deve piacere a tutti certo qualcuno apprezzerà un altro tipo di videogiochi con un ambiente più limitato con delle aspettative più limitate e che si concentrano su dell'altro molti apprezzano i videogiochi di guida li apprezzano molto di più rispetto alla saga di Grand Theft Auto non si tratta di apprezzamento si tratta di un valore oggettivo che nell'insieme nessuno è riuscito a raggiungere ed è un po' questo ciò che ci si aspetta da GTA 6 perché qualcosa di nuovo qualcosa di dirompente non lo potremo di certo vedere non me lo aspetto nemmeno non mi aspetto qualcosa che ti facci dire oh cavolo questa cosa non l'avevo mai vista cioè che mi aspetto è oh cavolo questa cosa fatta in questa maniera così bella così funzionante così viva così immersiva non l'avevo mai vista mi aspetto di vedere qualcosa che già conosciamo in altre vesti in vesti molto migliori e per quanto mi riguarda la maggior parte delle cose che esistono all'interno dei videogiochi in maniera generica ma di esempi se ne potrebbero fare tanti non vengono fatte nella maniera migliore possibile e quando provi un capitolo della saga di GTA ti rendi conto che quasi nulla del mondo dei videogiochi è fatto al meglio alla prossima Grazie a tutti.